Sono Simona Cavallaro, nutrizionista, ed oggi vi mostro i vantaggi dell'integratore anticellulite Red Moringa. Per combattere la ritenzione idrica ed ottenere il massimo risultato da questo integratore, dobbiamo seguire una dieta specifica, aumentando il consumo di cibi naturalmente drenanti come asparagi, sedano, ananas, ma anche cipolle, carciofi e cetrioli, e riducendo il consumo di sale, evitando di mangiare troppi salumi, formaggi e cibi in scatola. L'utilizzo dell'integratore anticellulite Red Moringa è in grado di potenziare i nostri risultati, grazie al suo contenuto di bromelina, estratta dal gambo dell'ananas, che è un enzima estremamente efficace contro le infiammazioni che causano la comparsa della cellulite. Questo integratore è l'unico con moringa oleifera bio. La bromelina è celebre per le sue funzioni antinfiammatorie, l'ananas invece è un eccellente diuretico, la moringa è un superfood ricco di antiossidanti e vitamine. Possiamo combattere l'infiammazione alla base della cellulite dall'interno, ma ricordiamoci di bere tanto durante la giornata. Red Moringa anticellulite è 100% naturale,